Un ragazzo di 23 anni di sommatino è stato arrestato dai carabinieri per aver colpito con calce e pugni lo zio. Il giovane avrebbe aggredito il parente a più riprese e non si sarebbe fermato neanche con l'arrivo dei militari, giunti sul posto per tentare di placare la situazione. Anzi, avrebbe tentato di assalire lo zio con una spranga. Così è scattato l'arresto a carico del giovane che ora dovrà rispondere dal reato di lesioni personali. Il fatto risale a lunedì sera quando lo zio, un uomo di 53 anni, ha chiamato i carabinieri di sommatino per chiedere aiuto. Una volta giunti sul posto, i militari avrebbero cercato di capire il motivo della lite, quando improvvisamente il giovane si sarebbe scagliato con calce e pugni contro lo zio. Il 23enne avrebbe continuato a infierire contro quest'ultimo nonostante fosse finito a terra. A quel punto i carabinieri lo hanno bloccato e tratto in arresto. Lo zio intanto è stato curato e dimesso dal pronto soccorso di Canicattì con una prognosi di sei giorni. Durante il processo per direttissime, infine, il giudice Nicoletta Frasca ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà il giovane, che è stato sottoposto alla misura di presentazione alla polizia giudiziaria come richiesto dal PM Dario Bonanno.